e va a prendersi il pallone, attenzione ad André Santos murato da Pietrangelo palla per Bijak, tutto solo, Bijak, calcio di sinistro ancora Pietrangelo finta il tiro, va verso la porta, grippi poi Gagliani mette dentro, ancora Pietrangelo per Wilde, lo serve adesso, si chiude il triangolo calcio a Cesaroni Santos, centralmente, manda per terra l'avversario prova a calciare